Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infippi lì per lavori un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna verso Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Sempre in Fippi lì, veicolo in fiamme tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Per le autostrade in A1 in direzione Roma, rallentamenti per veicolo in Abaria tra Albivio con la variante di Valico e Calenzano Sosto Fiorentino e code per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!